Aiu mamma mia mi fanno male le braccia mi fanno male le mani Ok ragazzi allora Vi starete chiedendo Fabri ma di che cos'è questo alle spalle? Ah questo alle spalle è Hit 5 Uscito nel 2020 ed oggi lo trovate su Instangaming se è ancora disponibile Nella versione base a 1€ E nella versione gold con tutti i DLC A 4,68€ E vi devo dire che il rapporto qualità prezzo è eccezionale Cioè al di là di tutto Senza avere nessuna pretesa questo titolo è veramente da comprare E vi spiego perché Partiamo dalle cose negative e poi arriviamo alle cose positive Le cose negative sono È un gioco che è stato preso, costruito per console Preso così e buttato sui PC Perché? Non potete usare il mouse per muovervi nei menu Quindi solo la tastiera I tasti non sono indicati con invio Barra spaziatrice X, C eccetera No, è indicato con i tasti del pad Per configurarlo Più basico di così Non l'ho mai visto in vita mia Force feedback Leggero, forte Vuoi abilitare gli effetti Sì o no Gli aiuti di guida Basta Ecco Grossolanamente è questo Cioè non puoi lavorare di fino A livello di grafica stessa cosa Low, Medium, High E quindi High è quello che state vedendo nelle mie spalle Che comunque è una parte positiva Dopodiché Avete una modalità carriera D'accordo Che segue le quattro serie Parte da L'Extreme Dirt Che sarebbe praticamente sulla terra Lo sterrato Poi avete I Pickup Poi avete la serie Infinity Che è la serie sotto alla Nascar Cup Che è questa che stiamo vedendo In cui potete Tramite i contratti Cioè la tipica carriera Che si fa sulle console E dopodiché c'è l'online Allora l'online c'è Roba tipo i sport Eccetera eccetera Vi tiene un conteggio Delle gare che fate Quello che è E potete andare in multiplayer Ma non è che c'è tantissima gente Però potete creare le vostre lobby private Ma in modo molto limitato Non potete cambiare il nome Non potete mettere una password Potete fare pochissimo E però potete selezionare Almeno la lunghezza delle gare Che tipo di series potete Con il quale gareggiare Qualche regoletta Che potete impostare E quanti giocatori Reali Possono partecipare Oppure completare Con la IA La IA è fondamentale In questo senso qua Perché Se giocate Ad esempio Con due amici Se vi distanziate Il gioco delle scie Nella NASCAR È molto 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 importante Quindi è bene inserirla Però ad esempio La forza della IA Non si può impostare Quindi dopo un po' Che diventate esperti La IA Ti saluto E quindi è un peccato Ma dipende anche dai circuiti Ora sto parlando di questa cosa Quella diceva Vabbè Fabio mi stai parlando Di sto gioco Che sembra un arcade Fermi Se mi conoscete Se vi sto parlando Di questo Hit 5 Che ho scoperto Per caso Grazie all'offerta Che Alessandro K Aveva fatto Per quelli 11 euro Mi hanno male le mani Facciamo un force feedback Pazzesco Tira fuori delle cose Dai servo base Che non avevo mai sentito Ecco perché ve ne parlo Ovviamente abbiamo abbassato Le forze Ci siamo resi conto Che è stradivertente Ragazzi Ma stradivertente Di brutto Cioè Veramente Riesce a darvi Delle sensazioni Di spostamento Di carico Quando la gomma Si consuma Quando sta partendo Poi no All'inizio siamo arrivati Strong Andiamo giù Mettiamo il force feedback Al massimo Mamma mia Un camion Per girare Per manovrare Ovviamente Abbiamo risistemato Il tutto E abbiamo iniziato A correre E ci siamo resi conto Che dietro la NASCAR C'è un mondo Ragazzi Le regole sono diverse La cultura è diversa Ovviamente Però Il divertimento È pazzesco Non è questo Cioè Creare una strategia Per poter attaccare Il proprio avversario Uno dietro l'altro A 320 km orari Uno dietro l'altro Ragazzi Negli speedway E Senza toccare l'avversario E senza appoggiarsi E andare a vincere All'ultima curva È un qualcosa Che ti fa salire L'adrenalina Alle stelle Per il prezzo A un euro Per chi non volesse La gold Vale veramente La pena Ragazzi Ci siamo fatti Delle serate Ma quelle serate Cazzegge Questo è un titolo Che magari Tra un mese Non ne parlerò Neanche più Però Ieri ad esempio Ci siamo fatti Un campionato E siamo arrivati A 2-3 punti L'uno dall'altro Un campionato online In cui Il sistema Ti dà i punti Automaticamente D'accordo Fai tutta una series Tipo scegli 29 tracciati La series NASCAR K Ad esempio E giri Fai 4-5-6 Quante gare vuoi Peccato che non uno Può strutturare un campionato Di 5-6-10 gare Puoi solo strutturare Quanto dura la gara 4% 7% E via dicendo 7% ragazzi Sono tipo 29 giri Perché Vi ricordo che Indy 500 Vuol dire 500 giri Quindi E fare 500 giri Fisicamente Deve uscite Morti Anche Anche Solo avere Anche se avete Il force feedback Basso E stancante Anche mentalmente Avere l'attenzione Perché se sbagliate Un qualcosina Se toccate il muro Uscite un po' Fuori traiettoria Ragazzi Siete cotti Perché Perdete la posizione Poi ci sono Dei sistemi Tipo delle Bandiere gialle Questo io l'ho scoperto Proprio grazie a Hit 5 Che Quando scattano Le bandiere gialle Per un incidente E la direzione Di gara Decide di Ricompattare Il gruppo Si riparte Dalla posizione In cui Eravate Quando sono scattate Le bandiere gialle E quindi Si rimescono Le carte Perché Ovviamente Se sei quarantesimo Al primo C'hai 400 metri Quindi Ma se sei decimo E fai una buona partenza Puoi andare Anche ad attaccare I primi posti E una cosa E sto parlando Di questa series Che state vedendo La NASCAR Cup Poi se parliamo Di La dirt Che sarebbe Praticamente Sulla terra Lo sterrato Quello è un altro Modo di vedere Le cose Ad esempio I pick up Fanno sia L'asfalto Che lo sterrato Fantastico Il divertimento È pazzesco E qui potreste dirmi Vabbè ma Fabrizio Ma tutti gli arcade Che ci sono Ma il problema È che questo Si situa Tra C'è la parte fisica Che si situa Tra Non lo so Come dirvelo Ragazzi Ma è talmente Tanto divertente Che dovevo parlarvene E per il prezzo Che costa Mi ripeto Io lo prenderei Perché magari Capitate Insieme a noi Su discord E vi fate Delle risorse Perché immaginate 40 piloti reali Cioè non ci credo Che sto facendo Un video su it5 Però devo dirvelo Ragazzi Quindi se vi è piaciuto Questo video Lasciate un pollice in su Se lo comprate Ragazzi Vi lascio L'invito Su discord Per Il canale Nostro Così magari Ho comprato It5 Perché Fabrizio Ne ha parlato Vi venite a fare Qualche gara con noi E scoprirete Perché ho fatto Questo video Perché veramente Io ogni volta Che finisco Delle gare C'è il sorriso Stampato A 32 denti Ovviamente Ve lo dico subito E' un titolo Che magari Tra un mese E due Sarà Sullo scaffale Però Per il prezzo Che costa Oggi Due mesi Di divertimento Io me li offrirei Se questo video Vi è piaciuto Lasciate un pollice in su Non esitate A lasciare un commento A segnalarmi Questo tipo di titolo Non archeidoni Ragazzi Cioè Roba che comunque Ci sia Che abbia Un suo Perché A livello di Force feedback Iscrivetevi al canale Tanto è gratuito E noi ci vediamo Prostissimo Da Fabrice è tutto Un abbraccio Ciao